Il ministro dell'interno Angelino Alfano ha disposto l'immediata espulsione dell'imam della moschea di Sandona di Piavia in provincia di Venezia e il marocchino Raudi al-Bdelbar per grave turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la sicurezza nazionale, oltre che discriminazione per motivi religiosi. L'imam, nel sermone di venerdì 29 luglio, avrebbe incitato all'odio contro gli ebrei, come ha denunciato l'associazione Membri.org vicina ad Israele. Il video dell'orazione caricato su YouTube ha fatto il giro del web. Oh Allah, avrebbe detto l'imam, porta su di loro ciò che ci renderà felici, contali ad uno ad uno e uccidili fino all'ultimo. Dure le parole di Alfano, non è accettabile, ha detto che venga pronunciato un'orazione di chiaro tenore antisemita con espliciti incitamenti alla violenza e all'odio religioso. La mia decisione valga da monito per tutti coloro che pensano che in Italia si possa predicare odio. Il provvedimento, inoltre sottolineato il Viminale, è stato adottato sulla base di scrupolosi accertamenti del Servizio Centrale Antiterrorismo con il concorso della Digos di Venezia e con la Procura. La notizia della violenta omelia, diffusa a martedì, è arrivata dal sito di Membri.org, centro di ricerca filo israeliano con sede a Washington e specializzato nell'analisi e traduzione della stampa araba e islamica. Nel video, ripreso dai quotidiani nazionali, oggetto di un tit e di un comunicato stampa anche da parte di Emanuele Prataviera, deputato della Lega Nord, l'imam parla degli ebrei come di cuori di pietra con le mani sporche del sangue dei profeti. L'islam è una religione di pace, via delle moscheche chi predica la morte, questa è la replica di Bochad Tanji, presidente della Federazione Islamica del Veneto e dell'associazione Assalam di Annone Veneto. Approviamo spiega, ricordando l'appoggio anche dell'associazione migranti della Venezia orientale Onlus, la decisione del ministro Alfano. È giusto espellere dall'Italia l'imam della moschea di San Donato di Piave.